Il trasporto pubblico è sotto gli occhi di tutti e a livello nazionale le criticità che attraversano questo settore per mancanza costante di risorse, ma rispetto a questo Regione Toscana nel 2010 ha fatto una sostanziale modifica con la legge regionale 65 per andare a ottimizzare le risorse che vengono meno o sono venute meno nel tempo un forte processo di razionalizzazione che potesse ancora continuare ad assicurare un servizio possibilmente efficiente ed efficace e compatibilmente con le risorse a disposizione. La Regione Toscana ha individuato una gara regionale per nove anni su bacino unico regionale, su questa Regione Toscana ha fatto un progetto che separa la cosiddetta rete debole dalla rete strutturale, la rete strutturale collega tutti i territori sopra i mille abitanti, la rete debole e tutto quello che sta fuori i centri dei mille abitanti. Le frazioni? Le piccole frazioni, le piccole realtà, rete debole perché ha pochi utenti, ma di forte rilevanza sociale anche perché sono quei territori più svantaggiati che forse hanno bisogno di maggiori servizi. Comunque la provincia, le sorti che avrà questo ente, una delle funzioni che avrà, senza consiglio, senza presidente ma che dovrà avere e avrà è quello del trasporto pubblico. Per cui noi, quello che sono gli accordi con Regione che sono nei documenti, quelli che abbiamo sottoscritto con i comuni, quello che dovranno fare i comuni che ringrazio fin da adesso per il lavoro meraviglioso che hanno svolto di grande consapevolezza progettando ognuno per conto proprio ma riportando poi a sintesi insieme alla provincia questa è la scommessa che c'è. Se i pullman si muoveranno, se i cittadini ne potranno usufruire dipende da quello che abbiamo scritto e che nel tempo speriamo sia applicato.